Buongiornerrimo, ma buongiornerrimo, che più buongiornerrimo di così ci potrebbe essere solo l'8 di giugno, ma tempo al tempo, tempo al tempo, intanto ci godiamo il momento. Allora ragazzi, prima di iniziare, super annuncio, annunciazione, perché notizia fresca, proprio di prima mattina, oggi sapete che sono in diretta su Radio Firenze Viola, con il mio programma Cucci Viola & Friends, io e Virginia Bicchi, ma c'è un ospite d'onore ragazzi, perché oggi, in puntata con noi, ci sarà Papa Vaigo! Oh, spettacolo! L'eroe di Torino, un cuore viola mai abbandonato, con il suo balletto, sarà in puntata con noi, dalle 14 alle 16, quindi ragazzi, ieri vi ho messo il numero WhatsApp per seguire, mandarci messaggi e note audio, ve lo rimetto anche in descrizione di questo video, in più durante la puntata darò anche il numero, se voleste chiamare in diretta per parlare con noi e soprattutto per parlare con Papa Vaigo. Ragazzi, pazzesco, bellissimo! Io non vedevo l'ora, l'ho provato a invitare talmente tante volte, che poi, tra l'altro, mi segue anche su Instagram, così a caso, ma non mi ha mai risposto, e stavolta me lo trovo in puntata, quindi è bellissimo, bellissimo! Radio Firenze Viola, ve lo ricordo, dalle 14 alle 16. Allora, iniziamo invece con il giorno dopo. Io intanto mi sono messo questa magliettina, che c'è sto tattameino qui, però serve per voi, se no non sentite nulla. Qua invece vedete la scritta più bella del mondo, ovvero Franchi, dice perché ti metti questa magliettina, è vero, l'ho già rimessa, ma oggi ha più valore di sempre perché il 7 di giugno, ufficiale, ufficiale, certificato, franca bollato dalla Fiorentina, ci apriranno le porte del Franchi per seguire la finale di Conference League. Come ho detto ieri, ancora non si conoscono le modalità con cui lo faranno, se ci saranno degli accrediti prima o meno, però vedremo. La cosa principale è che qui ci saremo noi a seguire, a seguire la finale, tutti uniti, come se fosse una partita casalinga, e faremo un bolgino, sono sicuro che faremo un gran bolgino, bello, intenso e soddisfacente. Allora, la partita di ieri per me ha un sapore particolare perché avendo vissuto 7 anni a Roma, vedere i romanisti che sul web si dilettano nei loro sfogo, sfogo super saian, sfogo incredibile per una partita del genere, francamente mi fa godere e non poco. Poi tra l'altro la Fiorentina non riusciva a ribaltare una partita dopo anni, veramente non ho memoria per un ribaltone, il ribaltone più bello lo seguiremo oggi su Radio Firenze Viola con Papa Vaigo, se non l'avesse ancora capito. Però ecco, erano anni veramente che non succedeva e sono contento perché ha dato non solo prova di forza, di carattere ma soprattutto anche, secondo me, una gran prova ai tifosi del fatto che, ok, la Coppa Italia l'abbiamo persa, l'Inter era più forte, però ci crediamo e vogliamo arrivare al massimo della concentrazione nella sfida appunto del 7 di giugno contro il West Ham. Perché? Perché tutta la Fiorentina, tutti i giocatori e soprattutto anche noi tifosi credono in questo obiettivo. Io credo sia un obiettivo veramente concreto, i ragazzi se lo meritano, è sì un obiettivo da dentro o fuori, come ho letto in alcuni commenti nel video di ieri, perché? Perché la Fiorentina vincendo quella competizione potrebbe andare in Europa League, perdendola ci sarebbe il rischio che il prossimo anno si rimanesse il giovedì, si tornasse al carcetto di San Miniato perché non ci sa nulla da fare. Questo è il rischio di chi gioca alle finali, ragazzi. Però c'è anche da dire che ieri la Fiorentina ti ha dimostrato veramente che crede in tutto. Poi c'è anche l'obiettivo remoto di un'esclusione della Juve. Perché dico remoto? Lo so che non è così remoto, perché potrebbe succedere. E quindi arrivare all'ottavo posto farebbe comodo. Però ragazzi, intorno alla Juve girano talmente tanti sordi che escluderla dalle coppe, secondo me, per la FIFA sarebbe un danno. Poi è vero anche che il mondo è fatto di regole, quindi chi non le rispetta deve pagare. E quindi io mi auguro che la giustizia sportiva faccia il suo corso, ma ci spero. Cioè, ci spero, ma ci credo poco. Ecco, diciamola così. O comunque metto le mani avanti. Va bene? Non succede, ma se succede. Poi, partita di ieri, che eravamo passati in svantaggio. Gli attaccanti non sembrava anche a sto giro riuscire a buttarla dentro. C'era un po' di sconforto. Ammetto che c'era un po' di sconforto anche in vista del 7 di giugno. Però, ragazzi, una grande forza della squadra, dell'allenatore, che tra l'altro ha azzeccato tutti i cambi, e di alcuni innesti che, non so per quale motivo, vedi qua me, non siano neanche entrati in Coppa Italia. Perché questi ragazzi hanno voglia di dimostrare, ma soprattutto hanno anche la capacità, per certi versi, forse più di altri, di poter ribaltare una partita. Lascia stare la partita di ieri. Però, anche un quame in Coppa Italia, secondo me, avrebbe fatto, sicuramente il suo avrebbe fatto comodo. Poi, la storia con i secco e ma, si sa che non si fa. Andiamo a vedere le pagelle, invece. Cero Forini gli dò 6,5. Attento e preciso. Poteva forse uscire prima sul gol dell'1-1, però salva almeno due altre occasioni niti della Roma. Sicuramente è un portiere che ha aspettato il suo momento migliore, e poi adesso sta facendo vedere che, non so se sarà lui il titolare il prossimo anno, però è un portiere preparato e pronto. Allora, venuti concedetemi un 6+, nel senso che ha fatto una partita da sufficienza. Poi ho visto alcuni giornali, gli hanno dato anche un 5,5 perché, di fatto, perde l'1-1 contro Belotti, che Belotti poi riesce a fare il cross, sponda della Roma e il Sharawi la butta dentro. Quindi non è che abbia fatto una partita perfetta, però c'è da dire che questo ragazzo ieri ha sigillato la sua ultima prestazione nella Fiorentina. Molti saranno contenti, va bene, ok, ha sbagliato tanto e tutto. Non si può riconoscere però che non ci abbia messo il cuore, non si può riconoscere il fatto che non sia un tifoso viola. Poi, lo so anch'io che i tifosi viola della Stan Curva e quelli forti devono andare in campo. Ok, leviamo questo storytelling cattivo e meschino, però è stato un ragazzo anche, certe volte, più di tutti, bollato, perché c'è sempre questo discorso biraghi messo in mezzo, biraghi, 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 però anche Venuti sono andati giù pesanti. Certe volte attore e biraghi. Biraghi erano poesie d'amore. Su Venuti, ragazzi, c'è stato un... Chiaramente, vabbè, ha fatto tre autogol, di cui uno è costato anche l'esclusione dalla Coppa Italia. È chiaro che, a po', alla Juve va bene. Non è stato sicuramente un terzino che ricorderemo negli anni, però, ripeto, è stato un cuore viola, è stato un ragazzo stupendo, è un ragazzo stupendo, ci ha sempre messo il cuore, quindi io ieri gli voglio dar un sei più. Poi, anche partite con buone ripartenze, per lo più fatta di attesa sugli esterni alla Roma, però, comunque, una partita, dai, dà sufficienza. Dodò, gli do sei e mezzo, entra e inizia a spingere, cercando di portare più palloni possibili in aria, non fa tantissimo, però almeno veramente alza il baricentro. I centrali sono quelli che non mi sono piaciuti, così come ormai da qualche settimana a questa parte. Igor cinque e mezzo, molto alto, spesso in ritardo negli interventi, e anche spesso in difficoltà, specie nei contropiedi. Chi non mi è piaciuto per niente, e credo neanche a Vincenzo Italiano, perché l'ha sostituito dopo 45 minuti, è ovviamente Martinez quarta. Per me in totale confusione. Poi, ha salvato anche un paio di azioni, uno addirittura sulla linea, però ragazzi, anche il gol, lui guarda e escerà, cioè, gli rimane a tre metri e se lo guarda. Questo purtroppo è in un momento di assoluto, di assolute prestazioni negative. Milenkovic, sei, entra per mettere un po' d'ordine, rispetto al primo tempo, soprattutto al primo brutto tempo di quarta, spesso si propone anche in avanti, e poi c'è anche un, diciamo, un mezzo rigorino, che potrebbe recriminare a suo favore, procurato da Mancini. Mancini è persona che odio, anche perché venne in atelier, questo è uno spoiler, cioè uno spoiler, un dietro le quinte che vi do, venne in atelier da me, perché si doveva sposare, a comprare l'abito da sposo, state tre ore a provare tutti i vestiti, e poi arrivederci e grazie. Ecco, quindi da allora già mi stava sui coglioni, adesso mi sta ancora più sui coglioni. Ma questo piccolo dietro le quinte. Biraghi, cinque e mezzo, molto sulle gambe, rispetto a mercoledì scorso, consente la sponda sul gol di El Sharawi, esce per me, perché era veramente stremato. Io non l'avrei fatto proprio giocare, visto che aveva speso molto in Coppa Italia, però l'italiano decide di farlo giocare un tempo, mette poi Terzic, a cui do sei e mezzo, perché anche lui come Dodò entra per alzare i ritmi e per aumentare la spinta, lamenta un rigore subito, ma c'era un fallo precedente di Sottil. Comunque alla fine la determinazione l'ha pagato, perché dal suo cross nasce la sponda che ha portato al gol del 2-1. Quindi veramente bravo. Duncan, cinque e mezzo, cerca di giocare in verticale, cerca di far girare il pallone, però la squadra, soprattutto nel primo tempo, sembra molto più imbambolata e ferma, senza idee, e quindi fatica molto. Nel secondo tempo si limita a recuperare i palloni, un po' come farebbe Ambra Bat. Mandragola invece gli do sei e mezzo, non è che mi sia piaciuto tantissimo, soprattutto in fase di costruzione, in fase di palleggio, però effettivamente il gol, e il secondo gol, il gol di Cone, viene, anzi il primo gol del pareggio di Jovic, viene dalla sua sponda. Quindi è stato un contributo assolutamente prezioso. Barak, cinque e mezzo. Ecco, se devo dare una nota stonata nel centrocampo di ieri, è quella di Barak, il solito Barak, che alterna anche buone giocate, come per esempio un paio di giocate e girate individuali, molto positive, però poi va a intermittenza, perché poi dopo ci sono momenti di blackout totali per 20-30 minuti e a lungo andare si paga molto questo giocatore altalenante. Però, non un gran contributo, ma sicuramente un giocatore da dover impiegare nelle prossime partite. Saponara, cinque, forse il peggiore ieri sera, prestazione veramente in colore, mi aspettavo tanto di più da un giocatore che ultimamente non era stato mai impiegato, però si è capito perché, perché non è assolutamente in forma, non è assolutamente nelle sue corde, ieri neanche giocate di qualità, ma anzi veniva spesso raddoppiato ed era molto prevedibile, quindi ieri è quello che mi è piaciuto meno. Da un sette e mezzo a Iconee, parte fortissimo, tra l'altro, come in Coppa Italia e salta bene alcuni avversari. Poi, le ultime scelte sono sempre da rivedere. Purtroppo c'è sempre sto vizio, sono sempre da rivedere. Però alla lunga si vede che l'insistenza di Italiano nei suoi confronti sta veramente, finalmente, direi, pagando. Il gol, poi, del 2-1 è un gol pesantissimo, quindi gli diamo, giustamente, uno dei voti più alti. Lo stesso voto, sette e mezzo, lo do a Kwame, per come è entrato e come ha cambiato la partita. Mi è piaciuto, anche Italiano ha detto, se dovessi partire per la guerra, porterei dietro a me Kwame, che fa anche un po' di rima, perché è veramente un ragazzo determinato, sempre volenteroso e soprattutto che ci crede tanto. Mi è piaciuta anche, non so se l'avete notata, la storia di Jack Bonaventura, proprio, loro sono molto amici, Kwame e Bonaventura, proprio dove si ritraggono insieme e dice, ragazzo sempre sorridente, uomo spogliatoio, un ragazzo veramente d'oro. Guarda, di sentirsi dire queste parole da un giocatore di grande esperienza e che ne ha visti tanti di campioni, come Jack Bonaventura, io credo sia un grande complimento. Poi, ve lo dice Samme Bonaventura, io potrei chiudere il canale, cioè, una cosa del genere. Sottil 6, non un contributo fantastico, visto anche che non fischiano un rigore per colpa sua, però il merito di spingere ce l'ha, quindi, comunque anche lui è entrato abbastanza bene, sicuramente meglio che in Coppa Italia, dove era totalmente impalpabile. Finiamo con Jovic, a cui do un bel 7, anche lui sembrava un'altra delle giornate dove non lambuzza nemmeno con le mani, specie in un'occasione dove scivola, vabbè, fa un disastro, però il gol dell'1-1 è un gol pesante, è un gol che gli dà morale, è un gol che fa sperare e tirare un respiro di sollievo anche a noi tifosi viola per avere, insomma, degli attaccanti pronti per il 7 di giugno, quindi, tutto sommato, una partita da 7. Finiamo anche con un bel 7 a Vincenzo Italiano, perché il turnover è massiccio, ragazzi, però gli errori, sempre gli stessi, perché si piglia sempre l'imbucata centrale o che comunque riesce a fare sponda a sponda da una fascia all'altra ed è una cosa che succede in terza categoria, l'allenatore ti prende e ti attacca veramente al muro, però comunque hai il merito di azzeccare tutti i cambi e riuscire a ribaltarle, è un momento veramente delicato perché siamo stanchi, veniamo da una sconfitta pesante, ovvero quella di Coppa Italia, e che comunque, come detto, tutto questo aiuta a guardare in vista alla finale con veramente un gesto di speranza. Detto questo, ragazzi, allora, il pagellone è finito, io vi aspetto dalle 14 alle 16 su Radio Firenze Viola, mi raccomando, con Papa Vaigo, tanti messaggi, ne voglio una caterva, mi raccomando, scriveteci, mandateci audio Whatsapp perché fanno piacere non solo a me ma soprattutto a lui. Forza Viola e JM, adesso ci mancano due partite, crediamoci, perché in una, soprattutto, ci giochiamo la stagione. Grazie.